Susanna, vorrei averla qui al mio fianco se fosse possibile. Susanna, vuoi venire con me un istante a parlare? Una tua impressione su questo circuito bottino che stai seguendo da due giorni col tuo cameraman. Vieni prima di questa partenza, sarei felice di averti qui per una tua impressione su quello che hai visto in questi due giorni di automobilismo storico. A te Susanna, prego. Beh, devo dire che ho visto dei pochi fantastici. Siamo stati benissimo, anche ieri in giro è stato molto bello. Lavorata di gara è andata benissimo, però potrei aver capito come fare l'eleganza alle tipologie femminile, quindi un onore alle donne. Sì. E poi la protezione civile, il corpo dei vigili urbani, dei carabinieri, della polizia di Stato. Ringraziamo l'assessore Rivelli Federico, un mio ringraziamento personale per Davide, il servizio audio, e poi soprattutto anche la cosa più importante. in posizione di farvi una cosa più importante. In posizione di carbinare il pacchio e la州. In posizione di carbinare il pacchio è il bagno. In posizione di carbinare il pacchio è il bagno. Orvi da lavorare, il bagno è il bagno è il bagno da lavorare. eeeh voilà eeeh oooooooh eeeh 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 Poi presenteremo anche gli altri giurati. Ecco la numero 1, Jessica. Grazie per aver guardato il video. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.